Cari cittadini e cari cittadini, buona serata a tutti perché siamo nel buon morizio perché sono quasi le 6 e questo video lo voglio dedicare alle mie amiche perché noi studenti e studentesse siamo venendo l'anno scolastico e perché stiamo a giugno e le scuole anche alcune scuole giudiranno l'8 giugno e non lo so per quale motivo e a noi si giudiranno il 10 che è sabato 10 giugno e quindi questo video lo dedico alle amiche mie che faranno gli esami di testa media, soprattutto di stato come Dicolo no, è si amiche stato e le amiche mie che ci è falano gli esami di testa Gesa mi distado Aspetta tu mba Aspetta Si lividi monopago no no aspetta è meglio dopo e comunque stavo che stavo dicendo e stavo dicendo che le mie amiche te l'hanno faranno il testamento di stato e poi come giornalista io dedico di voi io faccio un orgoglio a loro per una buona fortuna e per tutti voglio ringraziare una persona carissima che qualche volta io mi allabbio con lei eccetera ma lo sai che io sono fatto così e lei andrà a terni e ti guardi su questo video ma la vedo un po' in giro cose del genere rischio eccetera ma lo voglio dirlo davanti a tutti voi e grazie di tutto per quello che è arrivato per me carissima amica mia e scusati tutto scusa come mi sono comportato con te ma lo sai come ho fatto io e ma soprattutto classi di tutto per quello che hai fatto per me e ti auguro ti auguro ti auguro una buona fortuna perché c'è amministrato e e classi di tutto tutti hanno capito in tetto e si li vediamo si in giro cala calissima amica mia e poi non voto ti auguro una buona fortuna per gli esami per tutte quelle altre amiche mie le ricrazio al pio eccetera ma soprattutto alla fine del video voglio dire un poco che poi voglio dire un po' di foglio di tagliare una buona persona e e avete capito il tg e comunque comunque che voluti ho aggiunto la paledia tecdo e gli esami di stato e soprattutto buona fortuna a tutti gli studi di luigi valli scuola luigi valli di nani salo ma soprattutto della terza a della meravigliosa classe terza a ma soprattutto all'amico mio minore che mi ha aiutato a fare una cosa che tutti hanno capito tutti voi avete capito quale cosa e voglio ringraziarlo pure a lui per quello che mi ha fatto e grazie carissimo amico mio grazie di tutto sei il migliore amico se sentite come facevo a fare quella cosa grazie di tutto mattia piccinelli faccio nome comunque comunque usa parere sim per l'ultimo velutimo attivo con una fortuna a tutti gli studi di t7 la terza a voi buona fortuna e fiacolo non buona fortuna vecchi sami di stato e a tutta la vostra classe terza a e di qui ti niente usa paretesi e volevo dire una cosa per chiudere sto video da 16 al 25 giugno si sarà la sacca la sacca del progetto a sali pelato la sacca del progetto da 16 al 25 giugno come come vedete aspettate come vedete potete vedere pure sulle mie pagine facebook instagram di ocrea bella e niente quindi per chiudere questo video voglio dedicare questa cazzone a te mia mia gratissima amica che le voglio troppo bene è questa cazzone che tutti hanno capito il giugno ma non è quella che avete capito il giugno ma è un'altra che che avete che 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 è stata pure premiata ieri a luigi valli o sia il pagno a te che sei l'unica al mondo l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro a te che mi hai trovato a te che mi hai trovato all'angolo con i pugni chiusi con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te a te io canto una canzone perché non ho altro niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni sostanza dei giorni a te che sei il mio grande amore e il mio amore grande a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo a te che sei il mio amore grande e il mio grande amore a te che ti ho visto piangere nella mia mano fragile che potevo ucciderti sentendoti un po' e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in fratto a te che mi hai insegnato i sogni all'arte dell'avventura a te che credi nel coraggio e anche nella paura a te che sei la miglior cosa che mi sia successa a te che cambi tutti i giorni ma resti sempre la stessa a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei sostanza dei sogni miei a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei sostanza dei giorni miei a te che non ti piaci mai e sei una meraviglia le forze della natura si concentrano in te a te che sei una roccia sei una pianta sei un uracano sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano a te che sei l'unica amica che io posso avere l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me a te che hai reso la mia vita bella da morire che riesci a rendere la fatica un immenso che sei a te che sei il mio grande amore e il mio amore grande a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più a te che hai dato senso al tempo senza migliorarlo a te che sei il mio amore grande e il mio grande amore a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei sostanza dei sogni miei e a te che sei semplicemente sei un paio dei giorni miei sostanza dei sogni miei che sei semplicemente sei un paio dei giorni miei sostanza dei controlli Beh, questa l'ho dedicata alla mia gratissima amica Lía Pagnolo, come avete visto dalla polita lavoro che ho fatto vedere, ma per l'ultima, per chiudere il video, voglio dedicare un'altra canzone alle due amiche mie, ossia a quella persona che andrà a scuola l'anno prossimo e un'altra persona. Questa canzone la dedico a questa che andrà a Danny e poi quella tra piccuna, la, un'altra, un'altra canzone. Questa... ... 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 qui ti mette ma io ti dica nata cazzoni a quella persona che avete capito il team in detto cara Giulia cosa fai stai con me ce ne andiamo tutti al mare a mangiare sulla spiaggia e prendi l'acqua e prendi il pane stai con me e sarà mamma qua a chiamare e tanto sai quella con me cara Giulia ci vediamo alle tre la mattina è troppo calda ce ne andiamo io e te e prendi i dischi dei raddott e di di andrà li cantiamo già all'andata e poi ritorno qui di te ah che cosa resta la sorella mia ah persino il mare dopo di me ah 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 è una ricchezza la mia ricchezza ah 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 sei la più bella che ci sia ah 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 Cala Giulia come va siamo io e te la mattina è già passata e dimmi un po' l'acqua com'è Ho trovato delle conchiglie solo per te Le ho lasciate sulla sabbia Ci puoi fare un bel foglievo Che cosa resta un sorello mio Persino il mare ha dato di È una richiesta, vieni con me Será che un papà che ci sia Cara Giulia, cosa fai? Stai con me Ho contato fino a 10 E alla fine È una richiesta, vieni con me Cara Giulia, cosa fai? Stai con me? Ce ne andiamo tutti al mare A mangiare sulla spiaggia Avete capito chi è questa persona Questa persona per me è una persona cara, meravigliosa e tutto E per me è tutto Per lei L'Italia è il mondo La cosa che voglio La cosa che voglio E' quella cosa che alcuni che non si riesco più Mi viene da bene Quindi, niente E quindi per finire il video Fa una fortuna a tutte le amiche della scuola Wish Valley Mi sta finita, peggio Ciao ragà Comunque vi ricordo Dal 16 al 22 giugno Mi la vedete La saccata del pochetto Ha si liberano E, niente Fa una fortuna a tutte le amiche di la scuola Wish Valley Soprattutto Niente Mi l'Italia C'è il olive Me è una fortuna a Creati Essence Ma second karaoke Dessa Anche Pagkania